Benvenuti su News Flash Italia. Vi invitiamo a lasciare un like, commentare e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle ultime notizie. Grazie! Il famoso DJ Bob Sinclair ha fatto un appello ai suoi fan attraverso i social media dopo una serata da dimenticare a Mykonos. In un video di meno di un minuto, il DJ francese ha esortato i suoi follower a smettere di usare i cellulari nelle discoteche e a ballare, definendo quella serata come la peggiore della sua carriera. Bob Sinclair ha raccontato di aver provato a mettere in atto il suo French Touch e la Commercial Tech House, ma senza successo a causa del pubblico che era fermo con il cellulare in mano anziché ballare. L'appello del DJ ha ricevuto migliaia di commenti di supporto, evidenziando un cambiamento nelle discoteche dove la priorità sembra essere quella di fare video e foto anziché divertirsi. Tuttavia, la situazione è migliorata per Bob Sinclair a Cannes, dove ha avuto la sua rivincita. In un nuovo video ha espresso la sua soddisfazione per una serata al Baoli di Cannes, in cui ha potuto suonare ciò che voleva per due ore di house senza compromessi e un'ultima ora di disco funk senza la presenza di telefoni cellulari e con la gente che ballava e si divertiva. Questo episodio ha evidenziato un problema sempre più diffuso nelle discoteche moderne, dove l'uso eccessivo dei cellulari sembra influenzare negativamente l'atmosfera e il divertimento. Bob Sinclair ha lanciato un messaggio chiaro ai suoi fan e a tutti coloro che frequentano le discoteche, invitandoli a vivere il momento e a godersi la... Grazie a tutti! Ciao!